Le tre leggi di Keplero sono quelle cose che vi fanno studiare dieci volte, l'avete fatto le elementari e le medie, magari adesso lo starete facendo le superiori e se la classica cosa che uno rivede mille volte sui libri poi alla fine non le sa mai. Nessun problema, la rivediamo noi, in questo video facciamo la prima legge di Keplero. Ciao ragazzi, bentornati su Zero G, siamo di nuovo qui a Loft 92 perché oggi dobbiamo parlare della prima legge di Keplero, fondamentale che si inserisce in quel periodo storico importantissimo per l'Occidente che è stata la rivoluzione scientifica più o meno del 500, del 600, inteso 1500-1600 e che ha coinvolto, a parte il signor Keplero di cui parliamo in questo video, anche Galileo Galilei e Copernico. Allora, la situazione è un po' questa. Copernico ha cambiato la nostra visione del sistema solare, o meglio, ha cambiato la visione di quello che allora era considerato l'universo, spostando la Terra dal centro di tutto il sistema e mettendola invece un po' più in periferia, collocando invece il Sole al centro del sistema solare. Per cui il Sole è al centro e tutti i pianeti ci girano attorno, Terra compresa, quindi la Terra non era più il centro del sistema solare, quindi il centro dell'universo, ma la Terra è diventata un pianeta esattamente come tutti gli altri. Questa è stata una grande rivoluzione, però per Copernico le orbite dei pianeti erano delle orbite circolari, quindi la Terra e tutti gli altri pianeti descrivevano delle orbite che erano delle circonferenze perfette con al centro il Sole. Invece Keplero, che cosa ci dice? Ed è questa la prima legge. Ci dice invece che le orbite dei pianeti che ruotano attorno al Sole sono delle orbite ellittiche e che il Sole occupa uno dei due fuochi. Allora, quindi Keplero ci sta facendo fare praticamente uno step evolutivo in avanti. Copernico ha fatto in modo di togliere la Terra dal centro dell'universo e la messa invece è un po' più, diciamo, distante, no? Ha sostituito la Terra col Sole praticamente, la Terra è diventato uno dei tanti pianeti che ruotano attorno al Sole, ma per lui le orbite erano ancora circolari. Invece Keplero fa lo step in avanti e ci dice no, le orbite non sono circolari ma sono ellittiche. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i pianeti descrivono un'orbita che praticamente è una circonferenza ma un pochino deformata, perché l'ellisse è una figura geometrica perfettamente descrivibile tramite un'equazione e tramite tutte le caratteristiche che si possono studiare in matematica quando uno studia l'ellisse ed è praticamente una sorta di circonferenza un po' allungata. In realtà bisognerebbe dire che è la circonferenza che è un'ellisse un po' speciale ed è proprio quella, quell'ellisse per cui l'asse minore e l'asse maggiore in realtà sono esattamente uguali e sono uguali ai due diametri praticamente della circonferenza. Quindi in realtà le orbite dei planeti non sono perfettamente circolari, sono leggermente ellittiche, alcuni di più, altri di meno, e il fuoco, il fuoco, uno dei due fuochi anzi in realtà è occupato dal sole. Perché uno dei due fuochi? Beh perché l'ellisse in realtà è una figura geometrica che di fuochi effettivamente ne ha due e il sole è solo uno, sta in uno dei due fuochi. E i fuochi sono leggermente spostati rispetto al centro dell'ellisse per cui se il centro dell'ellisse è questo qui c'è un fuoco a sinistra del centro e un fuoco a destra del centro si trovano esattamente alla stessa distanza, la distanza tra il centro e i fuochi e la distanza focale. Quindi il sole sta in uno dei due fuochi dell'ellisse e i pianeti ci girano attorno. Questa quindi è la visione che Cheplero ci ha aiutato ad avere del sistema solare che effettivamente è corretta ancora oggi, nel senso che ancora oggi noi parliamo di pianeti che descrivono attorno al sole delle orbite ellittiche. Però in realtà la questione può essere estesa e portata anche oltre perché la cosa non vale soltanto per i pianeti che girano attorno al sole, ma vale per esempio anche per la luna che gira attorno alla Terra. Anche la luna che gira attorno alla Terra descrive un'orbita ellittica e la Terra è il corpo celeste che sta in uno dei due fuochi. La stessa cosa si può fare anche, si può dire, per i satelliti di Giove, per i satelliti di Saturno, insomma ogni pianeta che ha i suoi satelliti attorno vede i propri satelliti descrivere delle orbite che sono assolutamente ellittiche e il pianeta sta in uno dei due fuochi. Quindi in realtà la cosa non vale solo per i pianeti e il sole, vale comunque per corpi celesti che girano attorno ad altri corpi celesti. Questo vale anche per stelle che ruotano attorno ad altre stelle, descrivono magari delle orbite ellittiche anche loro, e via così. Può valere anche per pianeti che si trovano in sistemi extrasolari e quindi che ruotano attorno a stelle che sono distantissime da noi. Oggi sappiamo che ci sono tantissimi sistemi solari, abbiamo trovato migliaia di pianeti che girano attorno alle stelle e continuiamo a trovarne ogni anno sempre di più, il campionario di pianeti che conosciamo sta diventando sempre più vasto e sempre più esteso. Bene, questi pianeti che costituiscono altri sistemi solari al di fuori del nostro rispettano la legge di Keplero descrivendo attorno alle loro stelle delle orbite ellittiche. Ora, quanto ellittiche in realtà? Beh, qui dipende da pianeta a pianeta, perché le ellissi hanno diciamo una caratteristica che si chiama eccentricità e l'eccentricità è praticamente un numero che vi dice quanto l'ellisse è effettivamente schiacciata e quanto invece l'ellisse si avvicina ad essere perfettamente rotonda e quindi ad essere molto vicina alla forma di una circonferenza. L'orbita terrestre per esempio è davvero poco ellittica, cioè molto vicina all'essere una circonferenza praticamente perfetta. Si dice che quindi ha un'eccentricità molto bassa, cioè molto vicina allo zero. Man mano che invece l'eccentricità si alza e si distacca dello zero e si avvicina sempre di più al valore di uno, che è il valore massimo che l'eccentricità di un'ellisse può avere, ecco che l'orbita diventa sempre meno circolare, sempre più schiacciata, quindi sempre più ellittica, sempre più deformata, tanto deformata. Quindi la Terra ha un'orbita che è vero che è ellittica, ma è davvero poco ellittica. Se volessi disegnare l'orbita terrestre su un foglio praticamente la disegnerei col compasso. Ma se per esempio guardate l'orbita di Plutone, che sia un pianeta o no, questi discorsi, è un pianeta nano, non mi interessa fare queste definizioni in questo momento, però se voi guardate l'orbita di Plutone vedrete che l'orbita di Plutone invece è tanto ellittica, cioè è veramente tanto deformata, molto più rispetto alle orbite che descrivono gli altri pianeti. Quindi bisogna vedere effettivamente quanto le orbite sono ellittiche. Io ricordo ancora le immagini quelli che c'erano nel sussidiario delle elementari, erano terribili perché praticamente per farti capire che i pianeti descrivevano delle orbite ellittiche, facevano delle ellissi tipo alte così e larghe così, come se la Terra dovesse fare delle ellissi enormi col fuoco che a questo punto è molto spostato verso il bordo dell'ellisse, quindi il Sole stava qua e c'erano dei momenti in cui la Terra arrivava qui e poi dall'altra parte arrivava qua. Ma non è così in realtà, vi ripeto, cioè se uno dovesse fare veramente un disegno in scala più o meno giusta, potreste veramente disegnare il Sole in centro e poi via di compasso si fa un bel cerchio e fondamentalmente avete disegnato l'orbita della Terra, non siete andati molto lontano dal vero. Ok, per oggi è tutto, con la prima legge di Keplero abbiamo concluso, io vi invito a continuare a seguire i video su Zero G. Per oggi è tutto, vi saluto qui dall'OFT92 e ci vediamo alla prossima.